che apriamo con il processo Amianto-Ter. È in corso infatti al Tribunale di Gorizia l'udienza preliminare per esaminare la richiesta della Procura di rinvio a giudizio per 17 persone tra ex dirigenti talcantieri e responsabili delle ditte esterne che lavoravano a Panzano. Sono 42 le parti offese per altrettanti ex lavoratori deceduti nel periodo fra il 2006 e il 2010. A queste vanno aggiunte le parti civili istituzionali che sono il Comune di Monfalcone, l'Associazione Sposti Amianto e la Fium CGL. Non tutti i familiali dei deceduti però si costituiranno in giudizio poiché la Fincantieri ha già raggiunto alcuni accordi di risarcimento extra giudiziale con alcuni parenti. Il giudice Rossella Miele sta ascoltando in questo momento il collegio di difesa. Tutti i decessi avvennero per mesotelioma pleurico e carcinoma asbesto correlato. Sull'udienza pesa l'esito del primo processo Amianto che si è concluso lo scorso ottobre con 13 condanne mentre si attende ancora il deposito delle motivazioni di questo processo per il quale il giudice Trotta aveva chiesto una proroga al momento priva di termine definitorio. Per Tura ci siamo occupati dei decessi collegati all'esposizione all'Amianto, una piaga che riguarda molto da vicino la nostra regione. Continuiamo a parlare di sicurezza sul lavoro. La nostra attestata dedica a questa problematica che coinvolge i lavoratori, le loro famiglie e che ha anche alti costi sociali nei propri spazi informativi durante tutta la settimana interviste, approfondimenti e testimonianze. Cominciamo quindi dai dati che sono stati raccolti dal servizio di prevenzione, igiene e lavoro dell'INAIL regionale e riferiti al comparto agricolo. Sono in aumento le malattie professionali e in calo costante invece gli infortuni. Quelli denunciati complessivamente nel 2012 in regione sono stati 17.743, meno 10.3% rispetto al 2011. Nello stesso arco di tempo in agricoltura gli infortuni sono scesi da 847 a 728. Dal punto di vista statistico la causa più frequente degli infortuni è caratterizzata dalla caduta dal trattore. Il ribaltamento del mezzo invece è all'origine degli infortuni con esito mortale. Le malattie professionali denunciate sono invece in costante crescita. Nella nostra regione nel 2012 hanno raggiunto 1472, erano 1408 invece l'anno precedente. Il dato comprende industrie e servizi, agricoltura e dipendenti pubblici. Ma nel solo comparto agricolo in due anni sono quasi raddoppiate, passando da 47 a 91. Si tratta, fanno sapere gli esperti, di dati comunque parziali in quanto spesso infortuni e malattie non vengono segnalati. Per questo motivo il patronato EPACA della Coldiretti di Udine in collaborazione con l'Inail ha promosso per oggi una giornata di confronto e riflessione che si sta svolgendo alla Camera di Commercio del capoluogo friulano. E sempre di sicurezza negli ambienti di lavoro si è parlato questa mattina nel programma Buongiorno Regione. Abbiamo raccolto infatti la testimonianza di Flavio Friget che è stato vittima appunto di un grave infortunio. Friget da qualche anno partecipa a incontri nelle scuole e nelle aziende per sensibilizzare raccontando la propria storia. L'intervista è di Raffaele Cappuccio. Io avevo solamente 17 anni, ho subito una folgorazione, ero su una tettoia e inavvertitamente con una sbarra di ferro ho sfiorato i fili che appunto portavano dell'alta tensione. Sono stato investito da questa micidiale scarica e mi ha praticamente bruciato, mi ha ustionato e i chirurghi hanno dovuto amputarmi entrambe le gambe, il braccio sinistro e la mano destra era semi paralizzata. Perciò io a 17 anni mi sono ritrovato con la vita completamente distrutta, insomma, annientata in un attimo. Anche grazie a una casualità ha avuto modo di dare, come dire, un contributo alla collettività sulla base della sua esperienza. Se c'è un messaggio, qual è il messaggio che lei vuol dare alle persone che va a incontrare? Soprattutto agli studenti e non solo, è di, insomma, quando si è sul posto di lavoro, ma non solo sul posto di lavoro, di fare molta, molta, molta attenzione, perché appunto basta un attimo, un momento di disattenzione o insomma quant'altro perché la vita possa essere completamente stravolta, perciò bisogna stare molto attenti nell'ambito lavorativo, usare dispositivi di protezione e tutte queste cose qua, insomma, perché bisogna andare a lavorare la mattina e ritornare sani e salvi la sera. E vi proponiamo ora un esempio virtuoso di azienda. Si tratta della Clubber di Fiume Veneto, un'impresa specializzata nella produzione di sistemi di irrigazione. Investe circa mezzo milione di euro a Biennio nella sicurezza sul lavoro e una delle prime nella nostra regione ha iniziato ad acquisire certificazioni in questo campo fin dal 1995. Il servizio è di Tino Zava. Nata 45 anni fa, la Pordenonese Clubber è oggi tra le più importanti aziende europee nei sistemi di irrigazione. Quasi mezzo milione investito nell'ultimo biennio per la sicurezza che qui definiscono testualmente una fede praticata. Principi e obiettivi e norme di comportamento dell'impresa sono imprescindibili. Quindi la qualità, sistema di assicurazione qualità, ambiente, posto di lavoro, ergonomicità e sicurezza in assoluto. Rischio infortuni praticamente azzerato. Prima azienda del friulo occidentale a essere certificata già nel 1995 per il suo sistema di assicurazione qualità, confermato poi ogni tre anni. E' codificato nel 2010 dopo le analisi richieste a DNV, ente certificatore. E' stato attuato dopo un anno di percorso e ci ha portato in modo veloce a raggiungere la certificazione della sicurezza che era il punto di arrivo e l'obiettivo aziendale. Quasi 6.000 ore di formazione negli ultimi 4 anni rivolte ai 175 dipendenti oltre agli interinali. corsi base e specifici tipo rischi associati alle mansioni o specialistici a seconda dell'attività svolta. Formazione che abbraccia poi le procedure d'emergenza, di primo soccorso, antincendio e così via. Si guarda di continuo agli standard internazionali sotto la guida di una task force interna a cui riferiscono i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il mio compito è vedere le cose e proporre dei miglioramenti, delle correzioni all'azienda. La parte fondamentale è la prevenzione. La prevenzione è fare in modo che tutti siano responsabili delle proprie azioni e delle azioni degli altri anche. Analogo contributo viene anche chiesto ai capi reparto. Il nostro compito è quello di tutelare i operatori facendo attenzione a qualche, può essere qualche anomalia, di anticipare diciamo l'infortunio, cercare di aiutarli. In seno al gruppo sono operative due infermerie. Da 15 anni sono affidate ad un medico le visite periodiche del personale. Sono annuali per tutti gli operai e sono biennali per tutti gli impiegati. Inoltre gli operai fanno con pericità biennale o triennale spirometria e audiometria e alcuni fanno esami di laboratorio. Questo è il protocollo.